Oh Dio! Che succede? Chi sono io? Quella casa mi ispira sesso selvaggio, adesso vado a vedere cosa c'è là dentro, no non mi piace, passiamo di qua. Uh scale, andiamo sopra. Un che figata, lo immaginavo un po' più arredato, wow che figata di telecomando, fa anche i rumori. Bip, che merda. Chissà che succede se uccido quello lì. Ma che cazzo è? Più 2600. Dio santissimo sono un animale. Ma che bello posso anche sdraiarmi. Che figata, oh ma c'è un tizio terratatata ucciso con violenza. Lol aereo spia, che cos'è? Secondo me è un aereo. Che fa la spia? Wow granata, lol che culo sono vivo. E ti pareva, questa è sfiga. Yeppa l'aereo che fa la spia. Yeppa il telecomandino sexy che fa bip. Bip, perché non ha fatto bip? Quel buco, mi ispira. Selvark sex, quindi ci lancio dentro una patata bollente. OMG ancora l'aereo che fa la spia. Ma chi se ne fotte della ripla io voglio tirare l'aereo spia. Ora che ho l'aereo spia, posso pure gettarmi dal cavalcavia. Lol ho fatto la rima muaaaaaaaaa mi sento, powa. Come mai non muoiono più? Ma cos'è questa storia? Non muoiono perché li manchi mi sembra ovvio. Oh mio dio. E te chi sei? Sei così, così, Jay. Mi dispiace ma non voglio nulla sono a posto così e se ne vada grazie. Mi hai scambiato per un mu compra? Ah grazie mille. Senza di me tu non potresti vivere. Chi ti darà i biscottini al posto mio? Chi se non io? Dammi subito quei biscottini o ti ammazzo. Voglio biscotti. Io amo i pan di stelle. Ma cosa ti succede? Anzitutto stai camperando. E poi questa mania dei biscotti, è per non parlare del fatto che non riconosci il ricchione. E tu chi saresti? Segaiolo o drogato di turno? Penso drogato. Ma hai la faccia di segaiolo. Scommetto che fa il netrubino. Vai a lavorare extra comunitario. Intanto sono italiano e non faccio né il netrubino né il segaiolo. Però diciamo che una cannetta quotidiana ci sta sempre. Ma va a fumarti la vita. Infilati un dito nel culo e fischia un motivetto death metal grazie. Ora va a fare in culo. Oh 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 questo è stato stuprato a sangue come un canarino afroamericano. Yeah elicotterino overpowa. Con questo fecondo tutti. Cosa è quel cerchiolino? Oh cazzo granata ratatata facca spacca bottiglia ammazza famiglia. Pronto chi è? Uo mitraglione. Ho un vago ricordo che gira per la testa. Oh mio dio. Sito sottomettiti. B A F F Anculo. Chi è quel coglione che spara missili a cazzo e che ha tirato giù il mio elicotterino telecomandato da una radio? È un finocchio di merda. Wow una granata segnalatore. Ma si dai lanciamola e vediamo che serve. Che bel fumo. Intanto canto tralaralaralalalalalalalalalal bliss la 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 Wow una cassa con un aereo che fa la spia. Perché è diventato un silur a sub post e gigante. Che figata di lanciarazzi. Che figata di famas. P Lancia sub post e b. Fanas plancia sub post e famas b. V 담 i pubini. Lancia sub post e b. Famas plancia sub post e famas plancia sub post e famas b. 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 Plancia su poste B. Maiale. A deglielo infilo tutto su per il naso. Il Famas ovviamente. Chissà cosa avete pensato voi porci. A un cazzo. Avete pensato a un amerito cazzo. Maiali. Porci, luridi porci che si mettono a sognare lo spogliarello di Megan Fox di notte mentre si malmenano i coglioni. Super supposto ne in arrivo. Epic fail. Oddio ho finito il cristere. Un nemico. Oddio sto strisciando come un verme. Striscio come un fottuto verme. Ho paura. Ho una strafottuta paura. No maialone. Ho bisogno di gnocca. Mi serve tanta gnocca. Mi accontententerò di un televisore. Prima però vado a cercarne uno. Uh ma guarda qua una tibuo. Cazzo. Argaraga. Ma vai a molestare le palle alla tua mamma. Mi serve una psicologa. Magari che sia anche gnocca. Io voglio gnocca. Lo so sono un morto di figa ma sotto sotto chi non lo è? Oltre a Rocco e il finocchio che sono morti di cazzo. Non si può dire. Se dico cazzo sarebbe troppo volgare. Oh cazzo. Ho detto cazzo. E no cazzo. Basta dire cazzo e che cazzo. Oh cazzo. La partita è finita. Metti mi piace e iscriviti e commenta. La partita è stata giocata da Femapu97. E te non mi bella raga.